di nuovo ciao ecco il capitello di Sant'Antonio andiamo di fare una autoripresa giusto per migliorare il video eccolo qua forse si vedrà anche la mia biciclettina amata nello sfondo e chiudo finalmente al capitello di Kadolten vedete lassù in cima la maga coro dove mi recherò dopo forse se è aperta non vedo segni di vita però io qui girerò a destra per andare ai famosi due faggi e quindi ci vediamo dopo per la prossima ripresa ciao mi sto affidando al mio orientamento che non è eccezionale speriamo di arrivare alla meta mi sa che sono proprio sulla strada giusta guardate questa vallata la meraviglia di questa veduta ecco questa casa bellissima abbandonata se mi distrutta ditemi se non sarebbe un bel posticino sistemandola un po' non è un po' Guardate a quali prove incredibili mi sottopongo per arrivare alla meta prestabilita che non dovrebbe più essere distante bellissimo dovrebbero essere qui due la che vedo qui davanti eccomi che sto arrivando ai famosi due faggi che sono gli alberi che si vedono dalla pianura padana a non finire eccoli qua stupendo sono arrivato ciao carla ciao giovanna ciao Sara ciao Andrea ciao Emma ciao Tommy sono arrivato a destinazione faccio una panoramica al retro guardate il paesaggio meraviglioso che si gode da questa posizione stupendo meraviglioso piantarie in a tena non so se si vede il mare con la telecamera comunque in fondo lo vedete la laguna la vedete la laguna si si vede credo come vedete devo farmela a piedi per la strada non è innevata e ghiacciata comunque non importa per me non è un problema maglia coro e la chiusa e grazie a tutti